Questo è un evento importante per ENAV perché è l'occasione per fare un pochino il punto nel rapporto tra gestione del volo convenzionale e gestione del volo a bassa quota, quindi è proprio l'occasione per fare un po' il punto sullo stato dell'arte nel rapporto tra ENAV, che è la casa madre, e V-Flight, che è una nostra società controllata e che si occupa specialmente del volo dei veicoli a pilotaggio da remoto. Cercare di arrivare proprio in rapporto anche con l'evoluzione del concetto del volo e l'attenzione del volo a bassa quota ad un sistema unico integrato e che quindi consente una gestione sempre migliore tra la gestione del volo convenzionale e il volo senza pilota.